Allora, vi presentiamo la Shark Trophy, la nostra canna che abbiamo studiato noi per insediare i grossi predatori da terra. Vi spiego velocemente, questa è una canna a tre pezzi, non è una ripartitazione parabolica, lunghezza totale 395 cm con la prolunga. La peculiarità di questa canna è che la prolunga viene via molto facilmente, serve solo per il lancio. Quindi una volta lanciato, una volta lanciato, questa la toglieremo e la canna andrà sul picchetto senza la prolunga. Così avremo una leva meno svantaggiosa e potremo forzare di più facendo meno fatica il nostro pesce. Tutto il neoprene, tutto il primo pezzo, in modo che noi in combattimento possiamo mettere, in base alla lunghezza capiamo, la mano dove vogliamo. Questa fa un'ottima presa e andremo a montare un mulinello di grossa taglia. In questo caso usiamo un pespe in fiscia 10.500 perché abbiamo bisogno di tanta capienza, vedendo lo spot come oggi. Quindi non possiamo usare mulinelli dove ci sta meno filo, diciamo così. Quindi, combattimento senza prolunga. Prolunga solo per lanciare, per darci una mano a frustare e lanciare più lontano. Una volta che abbiamo lanciato, questo viene via molto facilmente, senza nessun problema. E andremo in combattimento così. La canna va sul picchetto così. Questa canna è tutta made in Italy, anellata Fuji, placca per il dominello Fuji. Niente, solo per grossi predatori da terra. Shat Trophy. Ciao ragazzi, noi andiamo a pesca. Ciao.